ragazzi una cosa mi interessa con un altro video horror mi portavo ovviamente comunque ragazzi oggi uscirà di serve il video horror comunque non click perché sono malato non un fake perché abbiamo visto dei passi strani perché oggi sono vegeta lo sapete che è quel bambino l'uomo nero è un musulmese cercatelo lo trovate raugini comunque ragazzi iscrivetevi al canale lasciate like seguite vabbè avete capito tutto ci rivederemo stasera ciao gente